Siamo con Uliano Fresia, vicepresidente del comitato di San Bernardo, parlo col cuore triste perché purtroppo non c'è più Marisa e tra due giorni ci saranno le nuove lezioni per poter continuare la nostra attività in questo breve periodo che veniamo sulla San Bernardo in quanto le nostre vacanze sono queste e le dedichiamo volentieri alla festa di San Bernardo perché la gente venga un po' di più, perché Walter di Settini ha bisogno di lavorare, noi abbiamo bisogno di scaricarci di tutte quelle tensioni che durante l'anno ci vengono a caricare. Dico che non solo San Bernardo ma ci sono delle zone che sono stupende e voi le conoscete bene perché siete sempre presenti in ogni punto di manifestazione, dal Marguareis al Redentore, insomma voi non mancate mai siete stupendi e vi ringraziamo perché Teleimperia ci continua a sponsorizzare senza nulla volere e vi ringrazio di vivo cuore. Vi aspetteremo il prossimo anno di nuovo qua, salute e tempo permettendo. A me piace così essere presente perché l'abbiamo creato a noi questo che vedete qua intorno a noi e col tempo speriamo di migliorare e di creare, ecco una cosa nuova, faremo e abbiamo già tutto il materiale pronto faremo un campo di beach volley sull'erba, non sulla sabbia, sull'erba. Sperando che non solo i ragazzi possano giocare a calcio ma anche le bambine, le ragazzine che giocano perché sono tante che giocano a volley vengono a divertirsi sul nostro campo, sull'erba.